Abbiamo trovato in biblioteca questo libro di Matteo Renzi, dal titolo Stil Novo. Non è un libro di tanti secoli fa, è dell'aprile del 2012. E leggendo Fraveriglia, pagina 71, abbiamo trovato che Matteo Renzi propone, tra le tante cose, la cancellazione delle regioni a statuto speciale. Leggeteli, evidenziato, via le regioni a statuto speciale, dice Renzi nel suo programma. Questo è il nostro statuto di autonomia, che se passerà il sì, il nostro statuto di autonomia verrà modificato da un Parlamento guidato da quest'uomo. Quest'uomo vorrà modificare il nostro statuto di autonomia. Voi mettereste il nostro statuto di autonomia nelle mani di Matteo Renzi? Se lo volete mettere, votate sì. Se non lo volete mettere nelle sue mani, votate no. Noi votiamo no. Gli uomini liberi votano e votano no. Grazie a tutti.